E oggi la maggioranza, sebbene abbia convocato il Consiglio Comunale e soprattutto abbia inserito un punto aggiuntivo all'ordine del giorno con urgenza, oggi non si è presentata in Consiglio Comunale. Sabato mattina il Consiglio Comunale si è tenuto soltanto alla presenza di cinque consiglieri comunali, oltre il Presidente. È evidente ancora una volta che questa maggioranza non ha i numeri per governare e soprattutto è una maggioranza che vive alla giornata, perché l'aver inviato un punto aggiuntivo all'ordine del giorno e non essersi presentato in aula e averlo ritirato ieri sera è veramente da dilettante allo sparagno. Grazie a tutti.